Buonasera, gentili telespettatori. La Juventus si impone in quel di Ascoli con una doppietta di Roberto Bettega. La Fiorentina però tiene il passo con un gol di Chiarugi. Il Torino manca il colpo del K.O. contro un Milan rimaneggiato con un pareggio al Comunale di Torino. Signori, benvenuti, buonasera, benvenuti a novantesimo minuto. Adesso diamo la parola a Tonino Carino da Ascoli. A te Tonino! Sì, grazie. Giampiero Nascoli parte a sprombattuto e dopo appena 40 secondi Arslanovic colpisce una traversa. Dicevo, la formazione martigiana subito in attacco già nella prima frazione di gioco e Giovanelli al 34esimo mette la palla nel sacco. Rivediamo il tiro. La risposta di Taibi da Barsuo interviene Giovanelli e mette la palla in rete. Nel secondo tempo la formazione ascolana mantiene il vantaggio e contiene il forcing da parte della Piacenza che sfiora il pareggio con un grandissimo tiro di Moretti. Alla fine della gara il migliore in campo rimane l'estremo difensore Ascolano Barrini che al 94esimo compie una vera e propria prudenza. Grazie a tutti.